Il tasso di inflazione è crollato all'1,2% rispetto al 3% dell'anno precedente. Non me lo ricordo più, però se vede il sistema di statistica che si ha esagerato è... Mentre dal rialzo dell'IVA si è avuto solo un raccolto parziale e modesto. Si tratta dell'idea... Come ero io, come eri tu, adesso non conta più. Com'è cambiato quello che intorno, faccio fatica a capirlo. Chissà perché, chissà perché, quel che mi manca c'è di più. Ora non c'è, non torna mai, non me lo ricordo più. Ma c'ero io, ma c'eri tu, ed era più di così. Perché ero io, perché eri tu, a cambiare il mondo, sì. Ma che cos'è, ma che cos'è, che abbia lasciato laggiù. Dove ero io, dove eri tu, ma dove ormai... Non più. Come ero io, come ero io, come eri tu, adesso non serve più. È già vissuto, è già passato, è tutto ciò che è accaduto. Chissà dov'è, chissà dov'è, quel che ripianco però... No, ora non c'è, non torna mai, dentro le cose che ho. Ma c'ero io, ma c'eri tu, ed era più di così. Perché ero io, perché eri tu, a cambiare il mondo, sì. Ma che cos'è, ma che cos'è, che abbia lasciato laggiù. Dove ero io, dove eri tu, ma dove ormai... Lo che cos'è, che abbia lasciato laggiù. No, ora non c'è. No, ora non c'è... Come ero io, come eri tu, non me lo ricordo più Però è così, insieme a te, che adesso comunque sia Perché non c'è, perché non c'è, altra ragione se no Come ero io, come eri tu, e come invece adesso no Perché non c'è, perché non c'è, altra ragione se no Come ero io, come eri tu, e come invece adesso no Oh Oh Grazie